Durante la prima giornata del Badolato Tarantella Festival edizione 2024 si sono esibiti Tarantanova e Ilenia Puzzolino e a seguire i Modena City Ramblers. Gli eventi serali svolti in Piazza Castello sono stati seguiti da migliaia di persone. Gli eventi sono stati seguiti da migliaia di persone. Gli eventi sono stati seguiti da migliaia di persone. Gli eventi sono stati seguiti da migliaia di persone. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.